Ah belli! No vabbè non ci credo! Come state? No! Quanto siete cresciuti? Quanto siete belli? Ci sei mancato madonna mia! Madonna santa no! Quanto siete belli? Le tue battute anche se non siamo stati male senza dirvi No lo so però quanto siete belli Meno belli di me ma siete belli Si meno belli molto Come sta papà? Come sta papà? Sta bene? Siete due figli siete Vi lo giuro sembra che non vi avete da 15 anni siete cresciuti E guidi c'è una macchina amore Si ho comprato per ragazzi No no ti giuro Ti sei fidanzato? Manco sei singolo bravo Continuo che sei singolo bravo Te come stai? Che fai? Scuola? Va bene? No non lo so Calcio John Beh giochiamo e giochiamo Siete forti? Mi sarà da soddisfazioni? Sì sì Bravi Ma come non lo sai? Siete scarsi come vostro fratello Siete contenti? Bravo! Federico e Alessandro benvenuti! Ciao! Ciao Faccio! Chi è Federico di voi due? Io! Fai fede! Ciao Alessandro! Ciao Faccio! Allora che fratello è Federico Edoardo? Fa il suo dovere oppure non c'è mai? Quando lo chiamate al telefonino si fa trovare? Siete forti... Lo chiamate al telefonino si fa trovare? Se vede l'olito mi ricca con un portico? Fave l'olito mi ricca con un altro video.. Lo chiamate al telefonino si fa solo